Dei sepolcri è uno dei più famosi poemetti della letteratura italiana, è giustamente. È un carme, in realtà sarebbe un poemetto ma Foscolo per amore dei classici amava chiamarlo latinamente carme, sul valore del sepolcro ovviamente, pubblicato nel 1807, poco dopo la pubblicazione dell'editto di St. Claude. Questo editto napoleonico, che è noto soprattutto grazie a questa poesia ormai, stabiliva varie cose ma in particolare dava delle regole sulle sepolture che riguardavano innanzitutto il fatto igienico di posizionare le sepolture solo al di fuori del centro urbano, controvvenendo all'uso di seppellire quindi nelle chiese, ma anche dava delle indicazioni definite circa i modi in cui potessero essere costruite le tombe, quindi nel nome dell'uguaglianza non si potevano spiccare troppo, neanche nei cimiteri. E questo carme fu frutto di una discussione con Ippolito Pindemonte, un letterato coevo e amico di Foscolo, noto soprattutto per una traduzione dell'Odissea che ebbe molta fortuna, e che anche lui scrisse I cimiteri, che era un poemetto che in realtà lasciò incompiuto, sul valore del sepolcro, che però per lui era soprattutto privato, anche perché lui era cristiano e pensava a una sopravvivenza dell'anima. Foscolo non pensa a questo e tuttavia ritiene che la tomba abbia un valore fondamentale, per chi? Non tanto per il morto, quanto per i vivi, cioè abbia un grande valore di civiltà, sia nel preservare gli affetti, lo vedremo in seguito, sia nel tramandare la memoria dell'estinto. E qualora questo estinto sia stato un grande, un grand'uomo, sia stato un esempio di virtù, può anche stimolare all'emulazione. Quando uno va sulla tomba di un grande, si sente effettivamente prendere una sorta di emozione irrazionale, anche se sa benissimo che il dentro c'è una sola ossa, e in qualche modo, dice Foscolo, ci sentiamo presi dalla voglia di imitare quei grandi esempi. In questi anni, nel periodo del pre-romanticismo, era in voga, in Inghilterra specialmente, la poesia cimiteriale. Apparentemente, Dei Sepolcri ha dei legami in questa poesia, in quanto parla di tombe, di cimiteri, ma sono più apparenti che altro questi legami, perché, al di là del tema molto generale, in Foscolo c'è un approccio razionale, e non c'è questo indulgere nella rappresentazione a tinte fosche e malinconiche dei cimiteri, che invece era caro ai poeti cimiteriali. Il suo è un approccio più, diciamo, argomentativo, filosofico, anche se argomentativo non è il tutto giusto. Difatti, Dei Sepolcri costituisce una meditazione filosofica non argomentata, come sillogisma. Cosa vuol dire? Vuol dire che non spiega razionalmente le sue idee, il nostro Foscolo, ma invece vuole proporci una meditazione in modo lirico e intenso dal punto di vista sentimentale. Questo vuol dire che una serie di immagini, toni diversi, immagini tra l'altro che spaziano nel tempo e nello spazio, perché abbiamo rievocazioni della più antica civiltà greca, arriviamo fino alla guerra di Troia e poi arriviamo all'oggi, con vari momenti in mezzo. Ci spostiamo in Grecia, ci spostiamo in Anatolia, ci spostiamo in Inghilterra, quindi paga nel tempo, nella storia, nella geografia, e queste con connessioni spesso ellittiche, quindi non sono spiegate ma dobbiamo capirle noi. Per questo motivo Giordani, un famosissimo letterato ottocentesco, amico tra l'altro di Leopardi, lo definì un famoso enigma, proprio perché non è così chiaro quello che ci vuole dire Foscolo, anche se noi proveremo a capirlo. Lo stile è generalmente elevato, come spesso capita in Foscolo, abbondano i termini aulici di matrice classicheggiante. La sintassi è molto varia, nel senso che ci sono delle frasi brevi, concisi, lapidarie, altre invece molto lunghe, sinteticamente complesse, che si snodano su più versi, e tra l'altro senza coincidere con i versi stessi, quindi non c'è coincidenza tra metrica e sintassi, questo tipico di Foscolo che utilizza molto l'enjambement e il rompere il verso con un punto fermo. Ci sono anche molti figure retoriche, e il metro a questo proposito sono in decassilla biscioltiche, in qualche modo dovrebbero richiamare l'esametro latino, che non era rimato. Inoltre, va detto che è un poemetto piuttosto lungo, 295 versi, senza strofe, quindi con continuità. Cerchiamo ora, nonostante non ci siano le divisioni in strofe, di capire quali sono i vari momenti. Però partiamo da un punto di partenza, che è il punto di partenza di Foscolo, che è il materialismo. Cioè lui si chiede se noi siamo destinati a finire completamente con la morte. A chi servono i sepolcri? Qui leggo proprio l'incipit. All'ombra dei cipressi dentro l'urne, confortati di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Domanda retorica. Se siamo sotto l'ombra di un cipresso e qualcuno ci piange, forse il sonno della morte, una metafora per dire la morte, è meno spiacevole? La risposta evidentemente è no, perché noi non siamo in grado di sentire dopo la morte quello che capiterà al nostro corpo. Infatti, qual fia ristoro è di perduti un sasso che distingue le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte? Che ristoro, che vantaggio avremo? Consolazione avremo per un sasso? Parola sasso umile qui per dire che la tomba è la rapide, però per dire un sasso, un nulla, per distinguere le mie ossa da tutte le altre infinite, perché la morte riguarda tutti. Ovviamente nulla, apparentemente nulla. Ma in realtà a qualcosa servono. Se andiamo oltre il meromaterialismo e pensiamo ai vivi, invece servono. Io qui ho sempre diviso il karma in quattro parti e per ciascuno ho scelto uno o due versi significativi. In questo caso, nella prima parte, dal verso 1 al 90, Fosco riflette sul valore affettivo delle tombe. E qui come verso chiave ho scelto Solo chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha nell'urna. Verso tra l'altro citato anche Degli e le storie tese nella canzone Urna. Comunque dice, solo chi non lascia eredità d'affetti, quindi solo chi non è ricordato da qualcuno che lo ama, ha poca gioia nell'urna. Quindi ha una sepoltura spiacevole. Poi perché? Perché le tombe garantiscono l'illusione di poter sopravvivere. È un'illusione, certo, ma ci aiuta nel momento in cui ancora siamo vivi. Effettivamente il Foscolo più volte, non solo qui ma anche in altre opere, riflette sull'importanza dell'essere sepolti vicino ai propri cari. Infatti la tomba deve essere confortata dal pianto dei propri affetti e quindi collocata in patria. Una tomba lontana da tutti i propri cari non ha lo stesso valore di quella che può essere invece completa. È un tema che ritorna più volte, per esempio anche in Azacinto. E ecco cosa dice, citiamo alcuni versi. Ma perché? Pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusione che è spento, pur lo soffermo a limitarti dite. Quindi perché togliersi quest'illusione? Non vive e forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con suavi cura nella mente dei suoi? Celeste è questa, corrispondenza da amorosi sensi. Ecco, questa corrispondenza da amorosi sensi, cioè l'affetto reciproco, è ciò che può riscattare il materialismo e lasciare questa illusione. Perché negarsi quest'illusione? Forse non si vive, anche se solo nella memoria, anche sottoterra, quando siamo ricordati? Questa è la prima idea che ci viene posta da Foscolo. Ci può neanche un esempio negativo. Il sepolcro di Parini, ignoto, che voleste infatti andare a compiangere Parini, che era amatissimo come letterato da Foscolo, non ha una tomba, perché sepolto a Milano, in un cimitero milanese, non fu degnamente segnato da un sepolcro, e quindi le sue ossa sono ignote. E qui Foscolo indulge un po', anche su immagini un po' orrorose, con il capo bozzato al ladro che gli insanguina le ossa. È un po' l'unico momento un po' più cimiteriale del carme. C'è però poi un passaggio successivo. Nella seconda parte, ai versi 91 al 150, si passa alla funzione civile delle tombe. Le tombe sono testimonianza di civiltà e la rispecchiano. Qui Foscolo parte dal presupposto che, come si vede in questi versi che ho citato, che la civiltà sia nata insieme ai sepolcri. Dal di che nozze tribunali e dare di erale umane belve esser pietose, di se stesse ed altrui, toglierne i vivi, all'etere maligno e dalle fere, i miserandi avanzi che natura, con veci eterna ai sensi altri destina. Quindi dice, fin da quando è nata la civiltà e le umane belve, quindi gli umani che all'epoca erano degli animali, diventarono pietose, cosa fecero? Cominciarono a seppellire i loro cari. I loro cari tolsero i poveri avanzi al continuo flusso della natura. Questo è un testo, è un'idea materialistica. e testimonianza dei fasti erano le tombe, e dare ai figli. Quindi le tombe diventavano non solo testimonianza del potere di una famiglia, ma anche come dei templi per i figli, diventavano sacri. E uscirono quindi i responsi e i domestici lari, e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion, che con diversi riti, le virtù patria e la pietà congiunta, tradussero per lungo d'ordine danni. Diventano quindi un elemento sacro per tramandare i valori, le virtù patria e la pietà congiunta. Ma questo vuole anche dire che rispecchiano la civiltà. Quindi, dove le civiltà sono virtuose, anche le tombe sono virtuose. Infatti, Foscolo porta quattro esempi, due negativi, a chiasmo, e due positivi. Positivi sono i sepolcri dei romani e i cimiteri inglesi, dove c'è una, diciamo, non si evoca una paura della morte, ma c'è un'armonia tra vivi e morti, tra natura e tomba. Mentre esempi negativi sono le tombe medievali e quelle contemporanee. Quelle medievali perché sono nelle chiese, provocano malattie, orrore con queste immagini di morte. E anche quelle contemporanee perché sono testimonianze non della virtù, ma della ricchezza. Contemporane italiane, intendo. E, difatti, passiamo al terzo punto, un punto chiave, che è la funzione pubblica delle tombe. Qui si inizia questa parte con l'espressione Egregie cosa? Il forte animo accendono. L'urne dei forti. Ecco, l'espirito di emulazione provocato dalle tombe. E qui c'è un lungo indulgere di Foscolo sulle tombe di Santa Croce. Basilica Fiorentina, dove sono sepolti i grandi italiani, sarebbe stato poi anche sepolto Foscolo, vengono citati Machiavelli, Galileo, Michelangelo e poi vengono evocati altri grandi come Dante, Petrarca, Alfieri. E si dice che Firenze è fortunata per averli avuti, ma più beata che in un tempio accolte servilita le glorie, uniche forze che dalle malvietate alpi alternano l'inipotenza dell'umane sorti, armi e sostanza ti invadeano e dare e patria e tranne nella memoria tutto, che ovvero spema i glori agli animosi intelletti rifughe dall'Italia, quindi trarremo gli auspici. Quindi il grande privilegio di Firenze è di avere le tombe dei grandi, perché l'unica cosa che ci sono rimasti, perché gli invasori ci hanno tolto tutto, ma dove ci sia ancora una speranza di gloria per gli intelletti italiani, di qui si trarranno gli auspici. C'è poi un passaggio alla battaglia di Maratona, quella in cui i greci sconfissero i persiani nella prima guerra persiana e lì, anche lì, diciamo, i sepolcri ispirano grandezza. E di qui si passa, sempre parlando dell'antichità, all'ultimo passaggio in cui si parla della funzione della poesia. L'armonia, cioè la poesia, vince di mille secoli di silenzio. Anche le tombe sono destinate a deperire come tutte le civiltà, come tutti gli oggetti materiali, ma la poesia doerà eterna. E la poesia parla ai posteri, ricorda i vinti, suscita i ricordi che possono, come le tombe, ispirare virtù. Qui il grande esempio che viene posto è quello dell'Iliade e di Omero che compare in una profezia di Cassandra e il Sacrovate, placando quelle affitte alme col canto, cioè i morti della guerra di Troia, I pre-incergivi eternerà per quante abbraccia a terra il grande padre oceano e tu, onore di pianti, Ettore avrai, ove fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Questi sono gli ultimissimi versi dei sepolcri dedicati a Ettore. Qui questa memoria verrà eternata e si ricorderà per sempre Ettore, lui chiama la patria e poi finisce con le sciagure umane, una chiosa pessimista su questo karma.